Una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telesity 1, canale 111 del Digitale Terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Con l'essonero dell'allenatore Piero Braglia e del direttore sportivo Giuseppe Magalini, sostituito da Pasquale Sensibile, presentato ieri in un'animata conferenza stampa, si è per il momento conclusa la rivoluzione grigia del presidente Luca Di Masi. Il patron dell'Alessandria Calcio e primo tifoso dei grigi ha ammesso di aver fatto degli errori, ma sempre mettendoci il cuore e alla domanda su tutto quello che succedeva dopo il girone di andata nell'Alessandria Calcio ha risposto. Se ne è accorto solo adesso lei? Beh, mi sono accorto adesso, avrò fatto sicuramente degli errori, sicuramente col cambio di allenatore perché ci voleva una determinata cosa, in questo momento il cambio di direttore sportivo era assolutamente dovuto perché non solo negli errori che uno ha valutato naturalmente all'interno della stagione, ma sicuramente è una visione futura, però una visione che per adesso secondo me può benissimo dare una scorsa maggiore e una mentalità maggiore, un dialogo maggiore con la squadra, un dialogo maggiore con lo stesso mister e sicuramente un valore aggiunto che ci porteremo avanti questo sì nel tempo in maniera importante per l'Alessandria e crescere, crescere e crescere sempre è quello che devo mettere. Ammetto tutti i miei errori che sicuramente ci saranno stati, poi a fine stagione analizzerò ancora di più tutto, adesso però dobbiamo andare in campo sabato convinti, cattivi perché nulla è ancora finito. Il meteo, in collaborazione con... Vuoi rottamare la tua vecchia stufa? Fino al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, montaggio e certificazioni a 165 euro, finanziamento a tasso zero in 12 mesi con prima rata a 90 giorni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Fino al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, ritiro e smaltimento usato, assistenza in 24 ore, opportunità di canalizzazione, detrazione fiscale del 50% e il Val 10%. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova ospiterà fino al 25 giugno la mostra Dinosauri che permetterà al pubblico di fare un salto indietro nel tempo per ammirare questi animali che abitarono il cielo, la terra e i mari del nostro pianeta. Ci si immergerà poi in una foresta primordiale per ammirare le grandi riproduzioni l'Ittiosauro, simile a un delfino, il Carnotauro, carnivolo con strutture simili a corna, l'Amargasauro, erbivoro, l'Albertosauro e il Tirannosauro, grandi predatori. Fino al 25 di giugno al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova. Grazie.